Siamo con Davide Panizza, una giovane 22enne di Alessandria, che è entrato a far parte della scuola di Silvio D'Amico a Roma. Che cos'è la scuola di Silvio D'Amico a Roma? È il tempio della scuola teatrale italiana. Davide Panizza l'avevamo intervistato un anno fa per Voce Alessandrina ed era ai suoi esordi in Alessandria, ma questo ne parliamo successivamente. Davide Panizza si è diplomato al liceo di scienze sociali Saluzzo di Alessandria, ha frequentato la scuola di recitazione I Pochi, che è un caposaldo per Alessandria, poi è approdato al teatro stabile di Torino diretto da Gabriele Vatis, master in recitazione alla scuola Moholl di Milano e ha scritto il copione di uno spettacolo. Però adesso io vorrei sapere da Davide Panizza, su 800 candidati quanti ne sono entrati nella scuola di Silvio D'Amico? 24. Siamo 13 maschi e 11 femmine. Ecco, questo cosa significa? Significa che ce l'abbiamo fatta. Loro hanno dei loro criteri, ovviamente non giudicano solamente il talento, hanno dei loro spettacoli in repertorio, hanno una loro idea d'attore ed attrice, però significa che c'è stato del lavoro dietro. Ecco, c'è stato un lavoro molto duro, ma anche molta determinazione. Certo, certo. Io mi sono fatto preparare da un insegnante per mesi, ho avuto lezioni di canto, perché ci sono molte prove anche di canto, movimento, e ce l'ho fatta. E che cosa si studia in questa scuola? Si studia recitazione, non si ha un metodo unico di recitazione, perché il metodo non esiste, questo è chiaro, ma si studia commedia dell'arte, si studia cinema, la storia del teatro, i grandi del teatro, si studia edizione, voce, canto, tutto quello che un attore deve saper fare. Dove è nata la passione dell'attore di Davide Panizzi? È nata quando mio padre mi ha portato a vedere Gelindo, io avevo 8 anni circa, e mi ha portato dietro le quinte, è stato... E dove si resti da Gelindo, da oltre 90 anni, se la memoria non mi tradisce, è stata rappresentata per la prima volta una commedia che è stata scritta da Davide Panizzi l'anno scorso al Teatro San Francesco. Che cos'è questa commedia? La commedia è numeri rimasti, il titolo, è una storia che ho scritto l'anno scorso, un anno e mezzo fa, è la storia di due numeri, numero 13 e numero 17, e partecipano a questo reality per nascere, e lo stesso pubblico dovrà votare chi far nascere dei due. E nello spettacolo succederanno cose che porteranno il pubblico a scegliere un numero 13 e un numero 17. Questo spettacolo è stato presentato per la prima volta da Alessandro, ma poi ha fatto il Giro d'Italia. Soprattutto a Milano è stato fatto a dei festival, purtroppo l'ho dovuto interrompere per entrare appunto alla Silvio D'Amico. Sono passato anche alla terza selezione dei filodrammatici di Milano, ma ho dovuto scegliere, e ho scelto Roma perché la considero, diciamo, la scuola per me. E adesso si trasferisce a Roma definitivamente? Sì, sì, sì. Per quanto tempo? Da tre anni in poi si spera di rimanere lì per lungo tempo. Al termine della scuola si potrà iniziare la recitazione delle compagnie teatrali? Sì, assolutamente. Compagnie teatrali, cinema, televisione, provini. Diciamo che è il punto di partenza, il viaggio inizia con la Silvio D'Amico. Bene, allora, visto che siamo davanti al Teatro Comunale, auguriamo Davide Panizza fra tre anni di ritrovarlo, almeno qui ad Alessandria, in uno spettacolo con una compagnia teatrale di grido.